perfetto ci siamo per davvero buongiorno a tutti benvenuti su tutora e bentornati sulla nostra piattaforma io mi presento in 30 secondi sono giuseppe mi occupo di esperienze online su tut red e se vi state chiedendo che cosa sono le esperienze online sono il nostro modo per farvi entrare in contatto con le aziende con cui collaboriamo ma non con la classica presentazione aziendale che magari avete sentito risentito nei vostri anni durante l'università mano entrando in punta di piedi dietro le quinte delle aziende e oggi lo facciamo con un'azienda che ho incontrato personalmente più volte nelle ultime settimane perché il discover sisal continua e quindi vi voglio presentare giulia pascali data scientist in sisal ciao giulia benvenuta ciao ciao a tutti il piacere di conoscere e ilaria maria botta talent acquisition ed employer branding specialist in sisal che vi risponderà a tutte le domande curiosità dubbi che riguardano il insomma il fatidico come si entra in sisal che cosa si fa in sisal come posso unirmi a voi ciao ilaria ciao ciao a tutti benvenuti allora prima di tutto vi vi racconto un attimo chi chi è sisal in maniera molto veloce molti di voi già la conosceranno ma sisal nasce nel 1946 dopo sicuramente la seconda guerra mondiale per andare a ricostruire tutti quelli che erano gli stadi che erano stati distrutti da quella che era stata la guerra quindi come opera abbastanza di ricongiungimento di quello che sono gli eventi sportivi e il nostro obiettivo fin da quel tempo è quello di offrire dei momenti di intrattenimento grazie a un'esperienza di gioco sostenibile sisal si è evoluta tanto in questi in questi anni e storicamente è un'azienda retail quindi sappiamo tutti quanti che solitamente si va all'interno delle delle agenzie o dei nostri punti gioco ha fatto una trasformazione sull'online molto importante negli ultimi anni diventando anche internazionale essendo acquisita poi dal gruppo flutter nell'agosto del 2022 in sisal crediamo che il gioco possa essere divertimento e spensieratezza e ci impendiamo quindi a diffondere un modello di gioco responsabile in questa grande trasformazione da retail online incontriamo sicuramente Giulia che è data scientist e lascio lei la parola che vi potrà descrivere molto meglio il il suo ruolo e poi andremo sicuramente a fare un momento finale di Q&A dove potremo rispondere a tutte le vostre domande anche poi a come si potrà entrare nel caso in sisale a quali sono le vostre domande sulla nostra azienda e sul nostro settore grazie mille e Giulia a te Giulia perdonami ti rubo invece trenta seconde prima di lasciarti il palco questo per davvero perché Ilaria mi ha servito un assist perfetto a proposito del Q&A nel senso che voi potete già scrivere le vostre domande nella chat tanto poi le recuperiamo comunque durante l'intervento di Giulia o al termine del somma della della sua presentazione quindi se vi viene in mente qualcosa qualche curiosità scrivetela appuntatela e insomma riportatela lì ma cosa più importante c'è la possibilità di fare le vostre domande al termine della del suo del suo intervento a Giulia quindi di fatto con la vostra con la vostra voce parlando unendovi a noi come farlo cliccando su reazioni in basso e poi alza la mano esattamente come sto facendo io in questo momento così vi do accesso al microfono e insomma potete unirvi a noi parlare fare le vostre domande sciogliere i dubbi chiedere a Giulia come si diventa data scientist quali sono le skill più più importanti e insomma poi tra l'altro Giulia di queste cose ne parlerà anche durante la presentazione quindi per qualsiasi dubbio poi nella parte finale a te Giulia grazie e vi chiedo soltanto di darmi un cenno se vedete il mio schermo se vedete la presentazione sì sì confermiamo perfetto ok allora l'oggetto del webinar di oggi l'abbiamo già detto e il ruolo del data scientist all'interno della business unit online di Siesa all'interno della quale opero appunto all'interno del team di data science e questi sono i punti che toccheremo ma parto da una breve introduzione su di me ho 27 anni mi sono laureata circa quattro anni fa in statistica e dopo una breve esperienza come RPA developer ho deciso di abbracciare il mondo della data science perché è convinta che potesse valorizzare di più le mie skill dopo quindi un altro paio di esperienze sono approvata approdata in Siesa alla giugno del 2022 e in questi mesi devo dire che la mia esperienza è stata positiva vi consiglio vivamente quindi di provare a entrare in Siesa magari appunto proprio all'interno del team di data science ha già fatto più o meno Ilaia una descrizione dell'azienda le cose da dire sarebbero tantissime immagino appunto conosciate il campo in cui opera il campo del gioco noi ci focalizziamo sul gioco online è un mercato vastissimo è un mercato internazionale appunto da un annetto siamo stati acquisiti da un gruppo globale che è flat entertainment e questo ci ha portato ad avere a che fare anche con colleghi e team di altre countries quindi comunichiamo e ci confrontiamo spesso anche con loro la mission dell'azienda è quella di puntare molto sul gioco responsabile il mercato del gioco in Italia è regolamentato dall'agenzia dei monopoli e delle dogane che obbligo i concessionari a tutelare giocatori e a prevenire il la dipendenza da gioco si sarà sposato in pieno questa tematica e promuove in continuazione attivamente il gioco responsabile e in particolare mette in atto tutte quelle misure che possono prevenire in qualche modo la dipendenza dal gioco. un altro dei valori carni dell'azienda sulla quale si fonda oggi è l'innovazione tecnologica e quindi tutto ciò che di conseguenza i dati i big data che vengono raccolti all'interno dell'azienda possono raccontarci e in questo contesto che entriamo in gioco noi come team di data science perché aiutiamo l'azienda e il business a rispondere a tutti quegli interrogativi ai quali possono rispondere i dati e portiamo valore all'azienda tramite i dati. quindi questo è un po' il quadro all'interno del quale ci andiamo a collocare noi come team di data science. come abbiamo detto rispondiamo a questi td business e generiamo valore a partire dai dati. lo facciamo come team customer insight quindi questi sotto team che vedete con la data visualization, data analysis, data science in maniera diversa rispondono tutti allo stesso interrogativo quindi come portare e generare valore attraverso i dati. il team di data visualization come lo fa? lo fa creando delle visualizzazioni grafiche, delle dashboard che aiutano i membri della business unit a prendere consapevolezza di quello che è il business, di quelli che sono i KPI dell'azienda, le performance e i trend. il team di data analysis invece crea della reportistica con tempi prestabiliti e della reportistica ad hoc in base alle esigenze appunto del business. noi invece come team di data science analizziamo i dati di oggi come il team di data analysis ma per prevedere i dati futuri quindi creiamo nello specifico soluzioni di data science e di machine learning che aiutino il business a prendere delle decisioni sul futuro. come vedete essendo noi un team molto tecnico abbiamo una controparte IT che invece è molto verticale su queste tematiche di data science, di artificial intelligence e che opera però trasversalmente sulle BU dell'azienda. noi ci rapportiamo spesso con loro per sviluppare modelli di data science a quattro mani e inoltre ci sono dei data engineer all'interno di questo team che ci supportano nell'integrazione di tutte le fonti di dati all'interno dei nostri sistemi quindi ci rapportiamo costantemente con loro per far sì che i dati, le varie fonti, i dati confluiscano tutte all'interno del nostro data warehouse aziendale. ma chi sono quindi i nostri stakeholder interni quindi coloro che hanno interesse che vengano sviluppate queste soluzioni di machine learning e di data science e il business in particolare alcuni team della nostra business unit ad esempio il team CRM che si occupa di marketing il team CVM che si occupa di trattare di gestire i clienti in base al valore che si generano per l'azienda ci sottopongono appunto dei problemi dei problemi aziendali che noi cerchiamo di tradurre in soluzioni pratiche attraverso appunto l'analisi dei dati. abbiamo detto quindi che il nostro obiettivo è trasformare i dati in valore utile lo facciamo quindi per l'azienda quindi ad esempio identificando quei clienti con più potenziale commerciale o i clienti che sono a rischio di abbandonare l'azienda e per il cliente finale ad esempio vi sarà capitato di utilizzare dei sistemi di raccomandazione sui siti che facilitano un po' la customer experience ad esempio avrete visto su Amazon, su YouTube che ci sono degli algoritmi sottostanti che vi suggeriscono dei prodotti simili a quelli di cui avete già usufruito questo è il caso di YouTube, dei canali che utenti simili a voi hanno già seguito. Noi facciamo la stessa cosa quindi all'interno ad esempio delle nostre piattaforme online. Come lo facciamo tutto questo? Lo facciamo nel pratico attraverso lo sviluppo di use case che non sono altro che problemi aziendali reali che possono essere risolvibili attraverso la data science con i dati appunto. Come ogni azienda comunque il nostro obiettivo finale è quello di accrescere il business, di generare valore ma come ho sottolineato prima lo facciamo sempre con un occhio di riguardo nei confronti del gioco responsabile. A questo proposito abbiamo anche sviluppato un modello di data science che vada a prevedere quali saranno i clienti, i giocatori a rischio di dipendenza dal gioco. Una volta individuati questi giocatori smettono di giocare su tutte le piattaforme, non solo su quella di Seasal ma anche su quelle degli altri provider. Un altro use case che abbiamo sviluppato è lo use case del cross-sell. Il cross-selling è una tematica molto ricorrente nell'azienda. Vi sarà capitato ad esempio quando acquistate un biglietto aereo sul sito di una compagnia che in fase di acquisto vi venga proposto l'acquisto anche di alcuni servizi ancillari come ad esempio la lounge, il fast truck, i pasti a bordo o un bagaglio in più. Allo stesso modo si vuole cercare in Seasal di far sì che il cliente utilizza, conosca tutti, il numero più alto di prodotti possibile. Quindi abbiamo creato questo modello che vada a stimare, a prevedere la probabilità che un cliente provi altri prodotti rispetto a quelli già provati e vada ad identificare poi il prodotto con più alta probabilità e attraverso campagne di marketing si suggerisce, si stimola il cliente a utilizzare quel prodotto magari sull'attribuzione di un bonus. Un altro use case che abbiamo sviluppato è il future value. Questo use case è un algoritmo di data knowledge nel senso che fa sì che si abbia conoscenza di quello che sarà il valore futuro per l'azienda di un cliente. Questo a cosa serve? Serve perché per quei clienti che in futuro potrebbero non avere grande valore per l'azienda si cerca di stimolare il cliente a giocare, a provare nuovi prodotti attraverso delle campagne di marketing o appunto l'invio di alcuni bonus. Questa operazione non viene effettuata invece nei confronti di coloro che avranno un alto valore per l'azienda perché non ce n'è bisogno evidentemente. Un altro algoritmo che abbiamo sviluppato è quello della bonus sensitivity. Questo è stato un po' un algoritmo travagliato. Infatti abbiamo avuto un po' di difficoltà nel costruire addirittura la variabile target. Si tratta di uno use case in cui è di interesse andare a capire quali siano i clienti sensibili e quali siano i clienti non sensibili all'utilizzo di bonus. Si vuole quindi attraverso un algoritmo deterministico individuare la variabile target che sono i clienti sensibili e i clienti non sensibili. Noi ci siamo scontrati proprio con il fatto che non era molto semplice andare a capire, a individuare quali fossero i clienti sensibili perché che cosa si intende con sensibili? Si intende che un cliente a seguito del consumo di un bonus accresca la propria spesa. Ma in un business in cui si utilizzano tanti bonus come il nostro è difficile andare ad individuare un rapporto di causa-effetto tra il consumo del bonus e l'eventuale crescita della spesa del cliente. Quindi per il momento abbiamo messo questo use case da parte ma eventualmente se voi avete delle idee su come costruire questa variabile target scrivetelo anche nei commenti o alla fine nello spazio dedicato alle domande intervenite pure per dare qualche suggerimento. Un altro use case che abbiamo sviluppato è il CERN. Anche questa è una tematica molto ricorrente in azienda perché si vuole andare a prevedere quelli che sono i clienti più a rischio di abbandonare l'azienda. Una volta individuati i clienti si attuano delle campagne di marketing per fare quella che viene chiamata customer retention. Arriviamo ora a forse quello che è l'argomento che più vi interessa quindi quali sono le attività ricorrenti o la giornata tipo. In realtà noi non abbiamo una vera e propria giornata tipo perché come data scientist lavoriamo a progetto. I progetti possono durare settimane se non mesi e quindi può accadere che per periodi di tempo prolungati tutti i giorni andiamo sempre a svolgere le stesse attività che può essere quella di analisi o quella di modellazione. Detto questo ci sono delle fasi ben precise. Un'altra cosa è che con lo smart working è cambiato anche radicalmente il modo di lavorare. Ad esempio quando io personalmente lavoro dall'ufficio tendo a privilegiare quelle attività di brainstorming, di riunione con gli altri membri del team per confrontarci un po' e discutere delle attività che stiamo portando avanti. Quando invece lavoro da casa tendo più a fare lavori in autonomia. quindi anche per questo credo non ci sia una vera e propria giornata tipo. Le attività ricorrenti invece che fa qualsiasi data scientist sono quelle presenti in questa slide. Poi noi in più facendo parte di un'unità di business abbiamo delle attività non data related quindi attività che includono altri team come abbiamo visto nella slide iniziale perché appunto siamo un anello di congiunzione tra il business e l'IT quindi intratteniamo dei rapporti sia con il business sia con l'IT e poi abbiamo attività come SAL quindi sessioni in cui si discute dello stato di avanzamento dei lavori con appunto i team con i quali collaboriamo. Quindi la prima fase del nostro lavoro è la fase di data loading, data preparation direi quindi andiamo a ricercare tutte quelle fonti, quei dati che ci servono per sviluppare la soluzione di data science. Questo in base a cosa lo facciamo? In base alla richiesta che ci è arrivata dal business quindi se a loro serve sviluppare un modello di data science affinché siano sopportati nelle loro decisioni noi facciamo data discovery quindi discutiamo all'interno del team su come possiamo rispondere a questo quesito di business su come il caso d'uso può essere affrontato se abbiamo tutti i dati a disposizione se dal nostro punto di vista non ci sono vincoli quindi si tratta proprio di una fase di problem statement di definizione del problema. Una volta conclusa quella fase iniziale appunto andiamo a recuperare tutti i dati che ci interessano dopo vedremo con quale strumento lo facciamo. Poi c'è la fase di data cleaning quindi omogenizziamo tutti i dati che abbiamo a disposizione andiamo ad eliminare quello che è un white noise all'interno dei dati facciamo un po' di pulizia ad esempio cerchiamo di identificare una strategia con la quale imputare i valori mancanti se c'è bisogno, se abbiamo più fonti dati a disposizione capiamo come unirle tra di loro in altre parole questa fase si chiama ITL che sta per extract, transform and load. Conclusa questa fase passiamo a quella che è la fase di data visualization che consiste nell'esplorare i dati con i quali abbiamo a che fare quindi creare dei grafici che evidenzino la relazione esistente tra le variabili eventualmente andiamo a valutare la correlazione tra le variabili coinvolte andiamo ad effettuare dei test statistici e eventualmente se dovesse essercene bisogno andiamo a creare nuove variabili quindi facciamo quella che viene definita future engineering trasformiamo le variabili con cui abbiamo a che fare e così via. Terminata questa fase c'è quella di selezione del modello quindi si comparano tra di loro si confrontano tutti i modelli che possono sulla carta adattarsi bene al problema di fronte al quale ci troviamo una volta provati i modelli andiamo ad identificare quello che meglio si adatta ai dati quello che magari è più performante. Una volta conclusa questa fase torniamo dal business proviamo a spiegargli come abbiamo affrontato il caso d'uso quali strumenti abbiamo utilizzato qual è l'idea sottostante il modello al quale abbiamo pensato e capiamo se loro sono soddisfatti se per loro il modello così come è stato sviluppato va bene in caso affermativo proseguiamo con lo step successivo in caso negativo torniamo alle fasi iniziali e ripercorriamo gli step che abbiamo visto prima quindi poi c'è una fase di training e scoring del modello anche in questa fase valutiamo un po' le performance facciamo un po' di settaggio dei parametri capiamo qual è anche la profondità temporale da prendere in considerazione anche questa è una scelta un po' delicata e quando siamo pronti andiamo a mettere il modello in produzione quindi c'è la fase di model deployment e in questo ci facciamo supportare anche qui nei nostri colleghi dell'IT e anche qui vedremo dopo il tool lo strumento che utilizziamo per svolgere questa fase per farvi un po' capire per darvi un'idea di quelle che sono le tempistiche di ogni fase all'interno della nostra pipeline ho preferito darvi una visione un po' più oggettiva quindi non in base soltanto alla mia esperienza in base all'esperienza di migliaia di data scientists e ho inserito le risposte di questo gruppo di data scientists ad una survey condotta nel 2020 in cui veniva chiesto ai data scientists qual è la percentuale di tempo che dedichi a ciascuna delle seguenti attività vedete quindi le percentuali di tempo che ogni attività occupa all'interno della pipeline io mi rispecchio abbastanza effettivamente le fasi che richiedono più tempo sono quelle iniziali nonostante io appena uscita dall'università o comunque in fase di studi pensavo che la fase cruciale del nostro lavoro fosse quella di data mining quindi quella di model selection model training and scoring invece non è così perché le fasi preliminari occupano molto tempo all'interno della nostra pipeline come vi ho detto poi ci sono delle fasi in cui facciamo dei brainstorming con il resto del team comunque non si lavora mai da soli una skill importante da avere in questo lavoro è anche quella di saper lavorare in team di avere confronti continui con il resto del team aiutarsi sviluppare nuove idee eccetera come vi dicevo quindi questo passiamo ai tool che utilizziamo questo tool che vedete è Dbiver ed è un IDE quindi un ambiente di sviluppo integrato per creare interrogare il DB con il linguaggio SQL noi utilizziamo questo strumento principalmente per la fase di loading e per la prima fase del data cleaning quindi ciò che facciamo è andare a vedere quali sono le fonti di dati necessarie per lo sviluppo del modello andare a prendere soltanto eventualmente i campi che ci interessano filtrare per un determinato lasso di tempo e unire le varie fonti di dati tra di loro quindi fare quell'operazione di cui parlavo prima di ITL qui facciamo soltanto le operazioni preliminari di pulizia perché poi come vedremo utilizzeremo altri software altri tool per fare operazioni di preprocessing un po' più approfondite questo tool lo utilizziamo anche per fare dei check molto veloci sui dati quindi basta fare una query molto semplice per avere degli insight anche importanti alle volte ed eccoci arrivati al clu diciamo degli strumenti che utilizziamo sono gli strumenti che utilizziamo per la maggior parte del tempo e sono degli strumenti che ci permettono di programmare in Python utilizziamo questi strumenti principalmente nella fase di visualizzazione dei dati quindi di analisi esplorativa e di selezione del modello ma diciamo facciamo anche tante analisi programmando in Python compiamo parte delle operazioni di preprocessing di pulizia quindi del dato e quelle fasi iniziali che ho menzionato prima questi due strumenti che vedete sono Jupyter e PyCharm entrambi IDE per la programmazione in Python sono entrambi open source quindi se ancora non li utilizzati vi consiglio di scaricarli devo dire che noi principalmente utilizziamo Python come linguaggio di programmazione per le nostre analisi anche se io nella prima parte della mia esperienza lavorativa utilizzavo per lo più R come IDE utilizzavo RStudio ma col passare del tempo visto che R va bene diciamo è molto utile per fare analisi descrittive per compiere quei task più legati alla statistica ma diciamo all'interno delle aziende si tende a utilizzare per lo più Python se comunque vi piace RStudio come IDE c'è un IDE molto simile che è Spyder e che viene utilizzato ad esempio dai nostri colleghi data analyst all'interno della nostra business unit per cosa utilizzo quindi PyCharm e per cosa utilizzo Jupyter Jupyter come vedete crea dei notebook quindi è molto utile per fare quegli analisi in cui bisogna alternare dei chunk di codice alla visualizzazione del risultato a una descrizione degli insight identificati nell'analisi in cui magari si vuole tenere traccia di ciò che si sta facendo all'interno del notebook lo utilizzo quindi soprattutto per fare delle analisi per fare un po' di esplorazione poi è molto comodo perché si può integrare anche il linguaggio HTML anche Latex e può essere facilmente poi trasportabile all'interno della piattaforma che utilizziamo per mettere i modelli in produzione che vedremo nella slide successiva invece utilizzo PyCharm quando devo scrivere degli script di codice un po' più articolati che magari hanno bisogno dell'utilizzo di classi, funzioni eccetera poi è possibile debagare il codice questo lo rende anche molto utile alle volte ad esempio ultimamente ho utilizzato PyCharm per automatizzare uno script che andava a verificare le performance di un modello quindi non mi serviva avere subito la visualizzazione di un risultato ma potevo rannare lo script one shot e alla fine di tutti i comandi veniva inviata veniva generata una mail che arrivava al mio indirizzo di posta e mi restituiva il risultato della lavorazione quindi in quel caso PyCharm si prestava molto di più allo scopo del lavoro che volevo fare arriviamo quindi ora al tool principale che utilizziamo per mettere i nostri modelli in produzione e che è l'Adobe Experience Platform questo strumento purtroppo a differenza di Jupyter e PyCharm non è open source ma è fornito appunto da questo provider che è Adobe questa piattaforma in realtà è una suite che contiene tool e servizi per la gestione della customer experience all'interno di questa piattaforma lavorano più figure all'interno delle aziende tra cui noi data scientists che abbiamo appunto un ambiente dedicato che è il data science workspace prima che noi mettiamo i modelli in produzione su questa piattaforma agiscono i data engineer che fanno sì che i dati provenienti da varie fonti confluiscano tutti all'interno della piattaforma creano degli schema che non sarebbero altro che dei data models all'interno dei data models vengono integrati tutti i data set quindi poi arriva il nostro turno che attraverso un query service ci permette di interrogare questi dati che poi diventano gli input dei nostri modelli noi lavoriamo per lo più con Jupyter che come vedete nello screenshot di destra è integrato all'interno della piattaforma e passiamo diciamo da lavorare in locale a lavorare su questa piattaforma in una fase della pipeline in cui dobbiamo magari abbiamo bisogno di prestazioni di più potenza diciamo della macchina e come vedete gli sotto è possibile settare ad esempio la CPU e la RAM come in base alle esigenze e c'è anche la possibilità di avere un ambiente sia di sviluppo che è quello che utilizziamo in questa fase sia di produzione che è quello che utilizziamo quando poi bisogna mettere il modello in produzione in tutta questa fase veniamo supportati anche qui dall'IT che crea delle ricette che nel linguaggio di Adobe Experience Platform sarebbero una serie di comandi che gestiscono che forniscono le istruzioni per costruire e seguire e addestrare un modello arriviamo ora a dei tool che utilizziamo non sono i tool principali del nostro lavoro ma li utilizziamo in maniera ausiliare per facilitarci alcuni task che a volte dobbiamo compiere come analisi molto rapide check veloci questo strumento è un tool di business intelligence serve fondamentalmente per la visualizzazione del dato e per la creazione delle dashboard si chiama ClickSense e in particolare può essere consultato all'interno della nostra business unit per valutare tutti quei KPI su quali si basa il nostro business è possibile visualizzare anche i trend tutte le performance in generale spaziano su qualsiasi tematica di business e come vedete l'utilizzo è molto intuitivo è possibile cliccare banalmente su una serie di filtri per filtrare per restringersi a determinate aree ad esempio qui questa è una dashboard relativa alle registrazioni che sono state fatte sui canali di CISAL si può filtrare per canale online o canale retail ci si può limitare ad un certo lasso temporale o qui è selezionato ad esempio il 2019 si possono applicare filtri sulla tipologia di canale di registrazione degli utenti e poi in basso c'è una parte relativa ai dati grezzi sottostanti queste dashboard che possono essere scaricati tranquillamente questa dashboard come dicevo prima è stata sviluppata dal team di data visualization del nostro team customer insight poi c'è un'altra piattaforma di business intelligence che utilizziamo abitualmente per fare dei check rapidi ed è Oracle Analytics Server che da poco è passato ad essere Oracle Analytics Cloud perché è stato interamente migrato in cloud e che cos'è? si tratta di un'interfaccia per eseguire delle query quindi delle interrogazioni al data warehouse in maniera molto user friendly come vedete c'è una tecnologia drag and drop che permette di trascinare i campi gli oggetti che si vogliono interrogare all'interno del canvas e in un secondo momento è possibile applicare dei filtri dei raggruppamenti scaricare i dati eventualmente per poi fare ampliare le analisi in locale utilizziamo quindi questo strumento oltre alle interrogazioni in linguaggio SQL per quando vogliamo fare magari dei check molto veloci non vogliamo magari fare 3000 join 3000 operazioni di ITL e quindi questo in quelle situazioni risulta molto comodo arriviamo ora alla parte relativa alle sfide che abbiamo affrontato anche in questo caso ho voluto fornirvi una rappresentazione il più possibile oggettiva e ampia di tutte le sfide che si possono incontrare come data scientist quindi ho inserito le risposte di una serie di migliaia di data scientist alla risposta alla domanda quali sono le sfide che hai incontrato l'anno scorso nel tuo esperienza lavorativa e in questo caso ho inserito le prime 15 risposte su circa una ventina totali e ho inserito delle stelline per quelle risposte che probabilmente avrei dato io sulle quali diciamo mi ci rivedo di più e diciamo che la sfida più importante che fino ad ora in Sisa l'abbiamo affrontato è quella relativa ai dati in realtà io ero abituata all'università a lavorare con dataset quasi sempre molto puliti in cui era molto ben chiaro il problema oggetto dell'analisi quali erano la variabile dipendente quali erano invece le variabili esplicative le variabili spesso erano anche discretamente correlate tra di loro il dataset non era sporchissimo non bisognava compiere tantissime operazioni di pulizia poi invece sono arrivata nel mondo lavorativo e visto che la situazione era opposta principalmente perché all'interno delle aziende i dati non vengono raccolti con la finalità di creare dei modelli di machine learning ma vengono raccolti per motivi amministrativi contabili quindi l'operazione che poi bisogna compiere è quella di unire tutte queste fonti di dati farle confluire all'interno di un unico database che nel nostro caso è un database strategico essendo noi parte di una unità di business e per far questo quest'operazione diciamo di far confluire varie fonti dati all'interno di un data warehouse è un'operazione lunga e contorta noi non la facciamo direttamente ma ci facciamo supportare da un team ad hoc dell'IT però intratteniamo continuamente rapporti con questo team per capire quali sono le nostre richieste quali vogliamo quali dati vogliamo importare all'interno del data warehouse della piattaforma di dati sulla quale si basa l'Adobe experience platform e così via ogni volta che vogliamo integrare nuovi dati il processo è molto lungo può durare settimane se non mesi perché ci sono varie richieste all'interno della business unit poi si è soggetti anche a tematiche di budget insomma lavoriamo un po' in un cantiere aperto poi una volta che i dati sono integrati all'interno delle piattaforme c'è anche una fase di consolidamento in cui noi andiamo a verificare che i dati siano integrati nella maniera corretta quindi come noi ci aspettiamo che vengano integrati e così via quindi questo diciamo che è un po' il problema principale poi un altro problema un'altra challenge per me è stata rapportarmi con persone con back to round diversi sia all'interno del mio team sia fuori dal mio team all'interno del mio team non eravamo ad esempio tutti provenienti da statistica quindi banalmente identificavamo gli oggetti anche con nomi diversi ad esempio io chiamavo le variabili variabili appunto ad esempio i miei colleghi feature e questo è un esempio banale ma c'erano problemi di questo tipo poi invece al di fuori del mio team era molto difficile all'inizio ma è anche ora comunicare in maniera semplice ma allo stesso tempo con il linguaggio specifico i concetti della nostra materia che spesso sono molto astratti per l'audience e un altro problema è quello che ho già evidenziato prima quando ho parlato di quello use case relativo alla bonus sensibility spesso non è facilmente identificabile il problema sottostante si fa fatica proprio a capire come rispondere al quesito di business non abbiamo magari i dati necessari per farlo non abbiamo gli strumenti necessari per farlo oppure questa prima fase è fattibile quindi riusciamo a individuare quelle che sono i dati necessari a costruire la variabile target ma poi magari questa variabile non è correlata con nessuna delle variabili esplicative che abbiamo a disposizione quindi questo non porta a nessun modello arriviamo quindi all'ultima slide che è quella relativa ai pro e contro della figura del data scientist in base sempre alla mia esperienza il primo pro è secondo me la versatilità perché sia le attività che compiamo ogni giorno sono delle più disparate e sia le industrie i settori ai quali possiamo applicare queste soluzioni di data science di machine learning sono delle più disparate diciamo che non ci si annoia mai è difficile essere stufi di fare questo lavoro il secondo punto secondo me è il fatto che siamo figure molto richieste solitamente non si fa fatica a trovare lavoro è un argomento sempre più in voga di cui hanno bisogno sempre più aziende quindi questo fa sempre molto piacere e poi il fatto che il topic sia in continua evoluzione anche questo ci fa sentire un po' al centro a volte dei temi legati all'innovazione ad esempio può capitare che in poco tempo venga sviluppato un nuovo modello che magari si adatta meglio ai dati ai quali abbiamo a disposizione poi c'è sempre si tende sempre ad aggiornarsi ad informarsi su quello che è lo stato dell'arte dei modelli perché è molto attiva la community dei data scientists che sviluppa appunto queste tematiche ad esempio anche i pacchetti di python che utilizziamo vengono sempre arricchiti con nuove funzionalità e anche questo ci rende sempre di più il lavoro più semplice l'altro lato della medaglia di questo tema legato al topic in continua evoluzione è il fatto che spesso possiamo anche provare nuovi modelli nuovi algoritmi e provare a creare modelli innovativi ma non sempre i risultati sono tangibili non sempre otteniamo i risultati desiderati e questo a volte può essere un po' frustrante però insegna non di sperare perché comunque tutto contribuisce a creare un bagaglio di conoscenze un altro contro che è un po' l'altro lato della medaglia del fatto che siamo figure molto richieste il fatto che ci sia un alto turnover proprio per via delle tante opportunità lavorative questo cosa significa significa che all'interno dei team spesso succede che qualcuno vada via perché magari trova opportunità più interessanti in linea con le sue aspettative e quindi succede che gli altri membri del team devono subentrare alle sue attività entrare magari in una fase già avanzata dei progetti che questo membro del team seguiva e questo non fa mai troppo piacere perché non è la stessa cosa entrare in un progetto in fase avanzata come magari entrare quando sta partendo deve partire oltre poi comunque al dispiacere che c'è dal punto di vista umano diciamo del fatto che qualcuno vada via inoltre un altro contro legato a questo lavoro è quello che ho già un po' menzionato prima il fatto che è un argomento un po' astratto per i più soprattutto per coloro che magari non masticano tantissimo questi concetti che non hanno un background tecnico ma bisogna comunque sforzarsi il più possibile di rendere questi argomenti semplici e farli digerire ad esempio il business che poi è il business l'utilizzatore finale delle soluzioni che andiamo a sviluppare quindi deve essere il business a capire avere ben chiaro in testa qual è l'idea che c'è dietro il modello quali sono i risultati del modello come interpretare i risultati e bisogna fare appunto un lavoro di questo tipo che non è mai troppo semplice io ho finito quindi la mia presentazione vi lascio a voi la parola per qualsiasi domanda curiosità se volete provare a rispondere a quell'aiuto che vi ho chiesto prima vi lascio un po' intervenire si Giulia io metto l'applauso come emoji qui nella mia finestra su zoom perché la tua presentazione è stata super completa quindi davvero complimenti perché hai coperto qualsiasi tema legato al mondo insomma alla realtà quotidiana del data scientist io ti voglio far riprendere un attimino fiato visto che visto che comunque ci hai raccontato tanto e quindi l'invito che rinnovo è quello di inserire le domande nella chat quindi scatenatevi davvero abbiamo dieci minuti in cui potete chiedere qualsiasi cosa a una data scientist quindi quale occasione migliore per chiedere magari come intraprendere questa carriera magari qualche segreto di cui Giulia non vi ha parlato rompo il ghiaccio io e ti chiedo Giulia qual è una cosa che ti porti dietro dagli anni dell'università o magari anche prima ancora dell'università che oggi si sta rivelando fondamentale nel tuo lavoro allora secondo me il porre molto attenzione ai dettagli oggi l'errore che si tende a fare secondo me come data scientist è guardare più alle performance ai risultati dei modelli ma spesso non ci si sofferma molto nel appunto su quegli step preliminari di cui parlavo prima bisogna sempre sviluppare una soluzione che abbia senso non bisogna soltanto schiacciare il bottone e dire basta che funzioni ma ci deve essere sempre un senso dietro ciò che facciamo deve essere sempre tutto molto coerente dobbiamo utilizzare delle variabili anche dobbiamo metterci diciamo noi del ragionamento per produrre delle variabili che secondo noi possono spiegare la variabilità del fenomeno di interesse cercare di utilizzare di più quel lato umano che purtroppo al quale non possono sopperire le macchine oggi appunto con l'intelligenza artificiale si cerca sempre di più di automatizzare di rendere automatico anche lo sviluppo di modelli di data science insomma dobbiamo capire che il nostro ruolo come umani è molto importante può avere un impatto chiave nello sviluppo di questi modelli chiaro guarda Veronica ti ringrazia è tutto molto interessante ti chiede qual è lo step più difficile tra quelli che ci hai menzionato nel tuo racconto allora quello che ho menzionato come più lungo e cruciale è appunto quello di riuscire a integrare tutte le fonti dati che abbiamo a disposizione effettivamente è il più lungo è quello con cui abbiamo a che fare più spesso probabilmente quello più difficile però è quello proprio di definizione della soluzione quella la prima parte quella di data discovery di problem statement in cui bisogna comprendere come andare ad inquadrare la soluzione come far sì che venga generato del lavoro bisogna capire esattamente gli interlocutori di business cosa importa e dove loro vogliono andare a parare quindi secondo me quella la fase è un po' più complessa chiaro ti ringrazio allora domanda di Valerio ciao Giulia intanto complimenti sto notando che nei vari annunci data scientist si è richiesto un'esperienza lavorativa di almeno due anni nel campo allora Valerio qui mi interrompo e ti dico non hai visto su Tutored perché l'esperienza richiesta su Tutored non c'è la domanda che ti fa è chiederti se sei riuscita ad entrare nella tua azienda da neolaureata o se hai avuto diciamo esperienze simili prima di entrare in Sisal allora la prima esperienza lavorativa che ho avuto è stata in consulenza in realtà sono stata assunta da una forse la conoscete è un'azienda che fa contabilità è una delle big four per intenderci e non cercavano in quel momento data scientist ma cercavano appunto sviluppatori di soluzioni di RPA quindi qualcuno che sviluppasse attraverso la programmazione dei robot e io pur di iniziare subito a lavorare perché ho iniziato a lavorare anche un mese prima di essermi laureata ho accettato questa proposta perché comunque poteva in qualche modo portarmi dei benefici ed effettivamente così è stato in quella situazione ho sviluppato le mie competenze nella programmazione e poi appena c'è stata l'opportunità si è liberato un posto all'interno del team di data science dopo appena 5-6 mesi comunque che facevo quel lavoro ho iniziato a lavorare come data scientist sviluppando soluzioni di advanced analytics quindi diciamo che spesso non si trova subito il lavoro che fa il caso proprio quindi non sempre magari si trova subito un lavoro come data scientist però si deve cercare di cogliere la palla al balzo appena c'è l'opportunità e di perseguire il proprio obiettivo appena si presenta una piccola possibilità appunto a me piacerebbe intanto Valerio ti ringrazia grazie a te Valerio dai in bocca al lupo mi auguro anche tu possa intraprendere questa carriera mi piacerebbe aprire una piccola parentesi sia con Giulia che con Ilaria sul colloquio di lavoro per diventare data scientist quindi io chiedo a Giulia se hai qualche consiglio specifico per sorprendere i recruiter e poi a Ilaria voi di solito lato HR cosa volete sentirvi dire? Allora consigli secondo me bisogna sempre comunque cercare di essere se stessi cercare comunque di far vedere che siete persone serie determinate nel perseguire degli obiettivi questo è molto importante all'interno di un'azienda persone che comunque si sanno rapportare quindi anche in fase di colloquio secondo me è molto importante il come ci si pone perché in azienda spesso gran parte del lavoro consiste nell'avere a che fare con persone con colleghi o ad esempio nel caso dell'azienda di consulenza con i clienti finali quindi diciamo sì in un colloquio di lavoro non possono venire fuori le competenze tecniche al netto di qualche domanda magari che viene fatta anche perché spesso le competenze poi si apprendono sul campo ma quello che secondo me bisogna far percepire magari anche la presenza di soft skills quindi di abilità non prettamente in renti alla materia ma propedeutiche diciamo al a questo lavoro lato 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 intanto risondo anche a Valerio allora noi come CISAL abbiamo e ricerchiamo durante l'anno comunque figure anche da trainee che pubblichiamo ovviamente su Tutored quindi potrai insomma guardare anche tutte le nostre posizioni e non chiediamo ovviamente nessun tipo di esperienza ma dopo l'università anzi se poi sei interessato possiamo anche prenderci un momento successivamente comunque diamo l'opportunità alle diverse risorse che hanno fatto dei percorsi universitari di formarsi già all'interno all'interno della nostra azienda con contratti di stage secondo me all'interno dei colloqui quando si fanno sia per la prima volta quindi da persone molto molto junior sia poi più avanti bisogna semplicemente essere se stessi e raccontare quale è stato proprio percorso non ci sono ricordatevi sempre non ci sono mai risposte giuste o risposte sbagliate c'è sempre una presentazione di se stessi e molto spesso è quello che poi richiedono le aziende per quanto riguarda la parte tecnica molte volte viene fatto comunque una somministrazione di prova tecnica sul direttamente durante il colloquio ma in altri casi comunque il primo il primo approccio è sempre quello conoscivo ricordate sempre che il colloquio è un momento dove due persone si conoscono da una parte il recruiter dall'altra parte voi come candidati perfetto Ilaria risposta ottima allora vediamo se c'è qualche altra domanda curiosità sì mi ero perso quella di Marco che Giulia ti chiede quanto è stressante il tuo lavoro hai molte scadenze che orari fai diciamo durante la settimana se puoi individuare una settimana tipo mettiamola così dai allora è un po' soggettivo nel senso che allora qui in SISAL devo dire che c'è molta attenzione nei confronti dei dipendenti non si mettono mai dipendenti nelle condizioni di essere stressati almeno questa primamente è stata la mia esperienza in base invece alle mie esperienze passate lo stress dipende molto è molto soggettivo dipende molto da che tipo di persona sei come gestisci le scadenze effettivamente ci sono sempre molte scadenze ce ne erano quando lavoravo in altre aziende ce ne sono ora in SISAL perché appunto il nostro lavoro come ho detto prima è fatto consiste nello sviluppare dei progetti e ogni progetto ha delle continue scadenze quindi sì in quel caso bisogna essere ben organizzati per cercare di non arrivare con l'affanno in prossimità della scadenza in quel caso non c'è motivo per essere stressati secondo me e per quanto riguarda gli orari invece io lavoro tranquillamente dalle 9 alle 18 e non succede quasi mai che abbia dei task da compiere oltre l'orario di lavoro grazie e ti faccio una domanda di Rossana che sei laureata in ingegneria di sistemi edilizi vuol sapere se ci sono scusami la domanda è Ilaria se sono posizioni aperte in SISAL coerenti con il suo percorso di studi la prima domanda che ti faccio Rossana intanto ti ringrazio è tu che ruolo vorresti fare nel senso che non sempre poi quello che studiamo deve per forza avere un ruolo già predefinito per tutti noi è vero tu hai studiato ingegneria dei sistemi edilizi che cosa vorresti specializzarti dove vorresti andare all'interno in che settore vorresti andare all'interno dell'azienda pensa a queste domande prima di tutto così poi potrai focalizzarti su quello che è il tuo ruolo ricordatevi sempre questa cosa non è che se studiate in questo caso ingegneria se studiate economia se studiate una materia umanistica allora avete per forza una cosa che dovete raggiungere pensate anche a che cosa vi piace perché poi è lì che date ovviamente il vostro meglio Rossana se vuoi ti do accesso al microfono così puoi confrontarti direttamente con con Ilaria se magari vuoi aggiungere qualcosina allora provo ad attivarti se no se dice che non puoi in questo momento allora non preoccuparti Rossana non c'è problema nel caso se vuoi possiamo sentirci anche poi nei prossimi giorni tranquillamente anche attraverso LinkedIn ok grazie a te ottimo allora io direi che siamo stati puntualissimi precisissimi Giulia si è stata ineccipibile raccontato tutto quello che c'era da sapere dietro le quinte anche cose che non si raccontano che non si che non si sentono tutti tutti i giorni Ilaria grazie mille per il tuo contributo io mi auguro insomma che tanta gente possa avvicinarsi a Sisal anche perché poi la cosa bella è che i nostri valori sono vicini ai vostri perché il discorso del entrare in azienda da neolaureato senza esperienza dovrebbe essere la normalità e quindi sia Tutored che Sisal si stanno muovendo in questa direzione quindi sono felicissimo di questo grazie mille grazie a tutti quanti grazie alla prossima ciao buona giornata ciao 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 Grazie.